Oh, ben ritrovati ragazzi sul canale Danimaggio, sia... Questo video lo metterò sia sul canale TikTok che sul canale, ovviamente, YouTube. Proseguiamo con questa collezione che avevo interrotto ma che poi ho ripreso subito perché alla fine volevo tutte e 50 le statuette, i numeri, quanti saranno. Sto parlando della collezione di Street Fighter, personaggi da collezione della Di Agostini. Siamo arrivati al numero 16 che è Sakura, o Sakura, e il numero 17 che è T-Hawk, non Tony Hawk. Vabbè, vado ad unboxare il contenuto, quindi vi ricordo che questa collezione adesso è settimanale e non è più... ogni 14 giorni ma appunto è diventata settimanale. Video molto rapido, qua come sempre c'è il fascicolo che non andiamo a vedere nel dettaglio ma vediamo solo la parte centrale con Sakura. Questi possono diventare tutti i poster, come diceva il mago Gabriel, stupendemente supplimi. E niente, dentro ci sono delle nozioni, delle notizie più che altro del mondo di Street Fighter ma non soltanto, del mondo Capcom anche, sono tutte notizie che riguardano il mondo di Street Fighter ma non soltanto, anche in parte il mondo dei videogiochi. Vedete che l'uscita successiva sarebbe stata poi T-Hawk, che è quello che adesso andiamo ad aprire. Apriamo però prima Sakura, i fascicoli, quindi vediamo solo la parte che vi ho fatto vedere. Vedere. Io dovrò prendere una vetrina, credo solo per questo, perché 50 numeri sono tanti e sul mobile dove ho tante altre action figures, non credo... cioè ci stanno ma un po' sparsi e non si vedono bene. Penso che prenderò una piccola vetrina quando avrò completato tutta la collezione. Ecco qui Sakura. Avrei fatto la collezione così mi sembra D'Agostini, c'è anche di Dragon Ball, ma era da iniziare tempo fa. Anche quelli di Dragon Ball sono carine, però queste di Street Fighter le ho cominciate dal numero 1, vi ricordo che il numero 1 è costato 1,99€, poi 5,99€ la seconda uscita, la terza uscita 8,99€ se non ricordo male, ma adesso tutti questi numeri costano 12€, 11,99€. Diciamo che sono fatti bene e anche il fatto che siano fatti in scala, nel senso che guardate quante più grande T-Hawk rispetto a Sakura, quindi diciamo che costano tutti 11,99€, ma ce ne sono anche di più grandi, come può essere questa qua, che nel gioco è un personaggio chiaramente più grande di lei, quindi sono fatti anche abbastanza bene rispetto a quello che sono nel videogioco. Quindi questa è Sakura, condossiamo T-Hawk, questo è un modo per farmi conoscere anche su TikTok, per quella mia passione ai videogiochi e action figures e fumetti. Ecco, una cosa che magari leggiamo, che non ho letto negli altri numeri, è in una pagina, nella terza pagina, non nella seconda pagina, c'è la data di nascita, che è 15 marzo, nazionalità giapponese, alta 1,57m, peso 42 kg, prima apparizione Street Fighter Alpha 2, 96, vedete che avevo ragione, qua stiamo parlando ovviamente di Sakura, o Sakura. Invece T-Hawk, leggiamo solo questo del fascicolo dopo aver visto la parte poster, che è quella centrale, che figa anche questa, questi anche sarebbero fighi, li tengo tutti per poi un giorno cercare di incorniciare magari tutti i singoli poster, vedrò se farlo, insomma. Il peso di T-Hawk, allora, data di nascita 21 luglio del 1959, l'età in Super Street Fighter 2, 34 anni, altezza 2,30m, peso 162 kg, pesantissimo, prima apparizione Super Street Fighter 2, 1993. Ah ok, prima apparizione Super Street Fighter, invece ero convinto che T-Hawk fosse un personaggio che entrava a far parte del mondo di Street Fighter, dal Street Fighter Alpha. Quindi andiamo a, vi ricordiamo il prossimo numero che sarà Yuri, che era una donna, anche questa facente parte dell'universo da Street Fighter Zero, Street Fighter Alpha anche lei, non mi ricordo bene, lo scopriremo nel prossimo numero che sarà la prossima settimana. Allora, questo video è anche per dirvi di venire in massa tra, facciamo per le 19, per il pronostico di Italia e Inghilterra a PES 2021 con Bruno Longhi e Aldo Serena, quindi ci rivediamo dopo sul canale YouTube Dani Maggio in live, non cerchiamo insomma di beccarci tutti quanti insieme là per cercare di vincere questo europeo che sembra vogliano assegnare all'Inghilterra dopo il pasticcio che si è creato contro la Danimarca, la pagliacciata che si è creata contro la Danimarca. Allora qui, ecco qua, T-Hawk, ah T-Hawk è il primo personaggio, queste statuette mi ricordano un sacco quelle della Bandai e della Banpresto di Dragon Ball, che quelle sono fatte ancora meglio, però questi stand qua, tipo questo per fargli tenere il ginocchio così suo lui, lui è rimovibile da qua, io non lo toglierò, però volendo si può togliere questo, è il primo che vedo, gli altri personaggi finora di Street Fighter alla numero 12 per, scusate, alla numero 17 questa è T-Hawk, per poter far stare il personaggio in questa posizione gli hanno messo il, per farlo stare meglio insomma, è figo anche T-Hawk, sono fatte veramente bene queste statuette per il prezzo che hanno, vi ricordo che 12 euro alla fine per un Action Figures non sono tante, tra l'altro mi sembra siano dipinte a mano, ha anche dei dettagli tipo la giacca qua dietro, vedete, con le striglie, se così si chiamano, del vestito, figo. Quindi vedete che fatte in scala, nel senso, per quanto, cioè, lui è molto più grosso di lei, quindi, cioè, sono fatte bene anche rispetto a quello che sono nel videogioco. Vabbè ragazzi, questo video è durato anche tanto, questo era il numero 16 e 17 della edizione della collezione di Street Fighter, personaggi della collezione della De Agostini, io torno presto, sia qua su TikTok che su YouTube, sia su YouTube che su TikTok. Tra poco in live alle 19, Italia e Inghilterra, ci vediamo dopo, Dio fa.